Una sperimentazione che ha dato i suoi frutti in termini di sicurezza contro la piaga sociale ed economica degli incidenti stradali. Era legittimamente soddisfatto questa mattina il sindaco di Spigno Saturni a Franco Simione durante la presentazione dei primi risultati dell'attività svolta negli ultimi mesi di alcuni speciali dissuasori di velocità, ben otto, installati dal comune nel tratto urbano della superstrada per Cassino, in località Santo Stefano, in una realtà fortemente urbanizzata che ospita peraltro anche diversi insediamenti industriali e artigianali. Il funzionamento sperimentale di questi totem di colore arancione denominati Velo OK nell'ambito della campagna nazionale Noi Sicuri ha partorito dei risultati davvero positivi e incoraggianti in tema di sicurezza stradale rispetto al recente passato. Ve ne offriamo alcuni. Al chilometro 22.860 della strada regionale 630, prima dell'installazione di questi Velo OK, nella settimana tra il 24 e il 29 marzo scorsi, su 52.541 passaggi complessivi, le infrazioni al codice della strada in tema di velocità erano state ben 37.456 pari al 71,3%. L'installazione di questi dissuasori, il cui funzionamento dell'uno rispetto all'altro è stato a conoscenza del solo comando di polizia locale, ha permesso che su 86.435 passaggi in entrambi le direzioni, le infrazioni sono state davvero una miseria. 1.588 pari all'1,8%. Insomma, ben 84.347 automobilisti hanno percorso questo tratto della superstrada per Cassino in maniera corretta, tant'è che le estrazioni elevate delle leggende del comandante Gerardo Picano sono state udite udite soltanto 20. Che all'amministrazione di Spino Saturnia, paradossalmente, in questa fase storica di spending review, interessi solo la sicurezza dei residenti piuttosto che fare cassa, l'ha tenuto a precisare il sindaco Franco Simeone nel corso di una conferenza stampo cui ha partecipato il coordinatore nazionale della campagna Noi Sicuri, Paolo Goglio. Sì, in questo caso, come i dati ci danno ragione, che non è per fare cassa ma l'abbattimento del 70% delle infrazioni è una cosa positiva. I cittadini già sono molto contenti di questa iniziativa, in questo pezzo di strada che attraversa il centro urbano di Spino, pericolosissimo, ci sono stati tanti incidenti e abbiamo visto che la percentuale si è abbassata di molto, sia come infrazioni ma anche per quanto riguarda gli automobilisti che all'attraversano con delle velocità veramente pericolose. Sì, questo è il primo progetto che parte dalla provincia di Latina, abbiamo fatto questa sperimentazione su una terra molto delicata che vedeva circa il 70% degli utenti superare abitualmente il limite. Con questi sistemi ha d'altissimo impatto dissuasivo perché in pratica l'utente della strada percepisce un controllo costante e quindi è indotto spontaneamente a ridurre la velocità, si è ridotto il campione dell'inflazione di circa il 90-95%, quindi un dato senz'altro promettente.